Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni televisive, che oggi si interesseranno ad un cambio di palinsesto che non farà senz'altro piacere ai milioni di telespettatori di Canale 5. Di cosa stiamo parlando se non del segreto, Beautiful è una vita, le tre soap spagnole che intrattengono i telespettatori ormai da molti anni con notevole successo di ascolti. Come abbiamo visto le soap opera hanno già subito alcune modifiche in onore delle puntate in diretta di Amici di Maria De Filippi e quindi Verissimo di Silvia Tofanin, che ha appena visto protagonista Cecilia Rodriguez raccontare la sua esperienza all'interno della casa video più spiata d'Italia. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i dirigenti di Mediaset hanno deciso di sospendere gli appuntamenti con le soap per fare posto al talent di Maria De Filippi e dal talk show della Tofanin. Una decisione purtroppo definitiva che ha suscitato un gran malumore tra gli amanti di Hernando e Camila e Teresa e Mauro. Ebbene sì, l'appuntamento di sabato con il segreto di Puente Viejo è rimandato presumibilmente a metà marzo 2017, ma le brutte notizie non finiscono qui in quanto Mediaset ha deciso di sospendere la puntata in prime time di mercoledì, sostituita dalla serie tv Sacrificio d'Amore. Una vita, Beautiful e il segreto sospesi per l8 dicembre ma le sorprese non finiscono qui, perché i dirigenti di Mediaset hanno deciso di cambiare la programmazione delle soap opera in occasione dell'immacolata concezione. Dalle ultime novità si evince che Beautiful, Una vita ed il segreto sono state cancellate per venerdì 8 dicembre, mentre Tempesta d'Amore e Un posto al sole non subiranno grosse modifiche. Dunque i telespettatori di Canale 5 dovranno accontentarsi di vendere i loro beniamini solo da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre, quando Cayetana sarà condannata a morte videomenter Mattias chiederà la mano di Marcella, dopo aver scoperto che aspetta un bebè. Ma cosa andrà in onda l8 dicembre al posto delle telenovela possiamo anticipare che alle 13.40 ci sarà un film con Kurt Russell e Dakota Fanning intitolato Dreamer la strada per la vittoria, mentre alle 16.00 questione di tempo, un film con Rachel McAdams del 2013. Se volete scoprire le nuove notizie sulla televisione, non dimenticatevi di cliccare il tasto segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore.